Chiaramente l'ho approfondita, ma era un tema che avevo già abbracciato e già studiato qualche anno fa per uno spettacolo analogo. Detto questo, sono onoratissimo di essere stato chiamato in occasione di questo avvenimento e sono qui per questo. Quindi sono temi e testi che parlano d'amore e parlano di sentimenti, quindi qualcosa che mi piace affrontare. Ecco, video sul Mona, l'associazione ormai inevitabile, non so se l'hai avuto modo anche di visitare la città. Purtroppo poco, perché arrivando ieri sera molto tardi e stamattina, come avete appena visto, siamo già in scena, mi sono promesso di farlo più tardi, anzi magari prima dello spettacolo, in modo da arrivare alla lettura ancora più preparato. Invece che ragazzi, che studenti hai trovato? Ma studenti attenti, ma ormai è un fatto questo, molto spesso si giudicano i ragazzi un po' troppo superficiali, un po' troppo leggeri. Da un lato è ovvio, ma è anche giusto per l'età che hanno, ma dall'altro lato ho trovato sempre, ma in giro per tutta Italia, non solo qui a Sulmona, un pubblico attento. Sono ragazzi che rappresentano una generazione forse migliore della mia alla loro età. Grazie.